RENALTO! Questo è un gioco collettivo. Nessuno nel mondo, solo, può fare la differenza. Con chi non ficciamo un cazzo? Tra essere capitano e essere padre ci sono le insimilitudini. Il primo ricordo che ho di Gigi non è a Parma con mio padre, ma quando ha alzato la Coppa del Mondo. Ad Andrea mi lega un rapporto di fratellanza. Queste partite ci vogliono i coglioni, eh? Spesso mangiamo qua per parlare un po' più intimi. Morata! Per me, se c'è la mia famiglia, posso andare anche alla luna, poi c'è la Juve che sta sopra tutto il resto. Tu devi stare ogni giorno a combattere tutto, a dimostrare che ci sei e devi far vedere che non voleremo mai. Per me, voi non essere perché, ma che la mia famiglia, è la mia famiglia, che potrà essere a tutti. Oggi, voi non lo farà come la mia famiglia, cosa vuole. Oggi, voi non andare anche alla inizietà. Oviedo, c'è la mia famiglia,